Eccoci bentrovati, nuova puntata di Extra Time, come sempre con tantissimi argomenti Saremo insieme per circa un'ora e mezza, intanto vi ringrazio perché ci seguite sempre con tanto affetto ed è un piacere per noi, così come ringrazio la parte tecnica Alessio Tallari e Antonio Desiderio Iniziamo quindi una nuova serata insieme, parleremo di tantissimi argomenti perché siamo nel rush finale di numerosi campionati che ci stanno facendo tribolare e molto 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 emozionale Il Pescara purtroppo è uscito con una sconfitta dallo stadio adriatico nel derby con l'Ancona Ci sono stati anche di Tafferugli dopo e prima della partita Purtroppo ci troviamo ancora a commentare questi episodi che evidentemente si verificano Ci sono stati anche dei feriti tra le forze dell'ordine Episodi che naturalmente condanniamo ma parleremo della parte sportiva e sentiremo anche Cascione E poi la Serie D con questo testa a testa sempre più intenso tra Campobasso e L'Aquila separate ora da due punti e mancano due partite alla fine del campionato E poi la meravigliosa promozione in Serie D del Teramo E allora io ringrazio per essere con noi negli studi di Pescara di Teleregione Freschi, freschi dalla festa che è finita praticamente pochissime ore fa Paolo D'Ercole, direttore sportivo del Teramo Ciao Paolo, ben trovato Buonasera a tutti Buonasera, grazie per l'invito Grazie a voi Grazie a te di essere con noi E Stefano D'Egidio, capo cannoniere del Teramo Ciao Stefano Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito Come stai? Come ti senti? Con un pensiero in meno e un trofeo in più Smaltiti i fasti della... Sì, sì, abbiamo festeggiato dopo la partita Sì, noi domani ricominciamo con l'allenamento E ci prepariamo per l'ultima partita di campionato Effettivamente, poi sentiremo anche altre interviste che abbiamo realizzato con Chiara Bonatti Che saluto e ringrazio proprio nel dopo partita C'è stato proprio un sospiro di sollievo, vero Paolo? Tirato da tutti voi dopo questa vittoria Sì, perché avevamo ancora paradossalmente paura di qualcosa Che sembrava impossibile avere paura Però è stato un campionato estremamente difficile, complicato, combattuto E devo dire veramente emozionante Quindi poi loro sono stati un po' troppo bravi domenica Che ci hanno fatto scaricare già dalla fine del primo tempo Quindi quando è stata la fine non capivamo Seggiamo festeggiato prima troppo dentro di noi E poi ce lo siamo iniziati a godere la sera tutti insieme Bello, bello perché effettivamente Voi eravate un po' predestinati sin dall'inizio del campionato Però poi, come dicevi, il campionato è stato tosto Perché Giulianova è stata una signora avversaria Una grandissima corazzata Che ora farà gli spareggi nazionali Quindi è stato avvincente questo campionato d'eccellenza Anche un alto livello di tasso tecnico Ma il livello si è alzato tantissimo Ma non soltanto noi e Giulianova C'eravamo noi sicuramente che eravamo le favorite almeno sulla carta Sì, è vero, anche la Folgore e altre formazioni Però come la Folgore, l'Angolana C'era la Vastese Che comunque all'inizio era una squadra da battere e da temere C'era il Summona Tante squadre che erano state già costruite per essere in alto Poi penso che, come ho detto anche ai tuoi colleghi in questi giorni Non è stato Giulianova a perderlo Siamo stati proprio noi a vincerlo Comunque abbiamo vinto tutto Abbiamo vinto anche la Coppa regionale In un derby penso che rimarrà nella storia Penso di tutti, di entrambe le tifoserie Perché poi per la condizione di pubblico Forse quella è stata un po' la sintesi di tutta la stagione Quella partita Penso che Con i cambi di riuscire a fronte Perché noi, la differenza tra noi e loro È stata soltanto che noi abbiamo vinto Abbiamo dato quel qualcosina in più Per tanti variabili Ci può essere la fortuna, la bravura Nel saper gestire determinati momenti Però non penso che ci siano grosse differenze Quindi complimenti rifaccio a entrambe le squadre Perché sono state veramente belle da vedere Assolutamente Stefano, che dici? Com'hai vissuto tu questa stagione? Beh, diciamo benissimo Con tanti picchi, tanti alti e pochi bassi Pochissimi bassi Se guardiamo in faccia la realtà Abbiamo avuto pochi momenti di difficoltà Ma non per questo Si sminuisce il lavoro fatto Perché comunque abbiamo Fin dai primi giorni di ritiro Siamo stati sempre un gruppo importante Quindi secondo me è quello che fa la differenza Poi comunque Abbiamo avuto come avversario il Giulianova Quindi eravamo costretti a dare qualcosa in più Anche motivati, credo no? Motivati Il derby non ti giocava da circa 15-16 anni Quindi la gente era super elettrizzata Per fortuna nostra abbiamo vinto sia la Coppa che il campionato Ma credo che siano entrambe meritate Perché comunque sia Diciamo che avete anche sfiorato la finale della Coppa nazionale Quello è stato l'unico dispiacere Ma non per ingordiggio Abbiamo sempre detto Non era per far vedere Era proprio che noi ci tenavamo veramente tanto Perché era qualcosa per dare risalto anche alla città Alla regione Perché comunque noi rappresentavamo la regione Abruzzo Quindi era bello andare fuori e far parlare di noi Far parlare di tutta Teramo Della regione e in tutta Italia Sarebbe stato veramente bello Anche perché questi ragazzi se lo meritavano Cosa è mancato secondo te Paolo in quella circostanza? Non lo so Dopo la pressione oppure? Sicuramente avevamo la pressione che dopo le feste C'è stata la sosta dopo le feste Dopo tre giorni dopo avevamo una partita molto difficile Con la Vastese Dovevamo recuperare ancora la partita contro l'Angolana Perché era in concomitanza con una delle partite di Coppa Cioè diciamo che la responsabilità del campionato ha influito un po' Sì Anche l'ambiente non era contentissimo del fatto che noi andassimo avanti in Coppa Perché sembrava come se noi volessimo sminuire il campionato Togliere qualcosa al campionato Invece come dicevo a tutti questa è una squadra che per vincere doveva continuare a vincere Perché era come un'autoricarica Non si sono mai stancati di farlo Sono giovani Una squadra molto giovane Ma come ha detto Stefano Una squadra veramente fatta di ragazzi fantastici Che si è amalgamata subito Si sono voluti bene tutti E infatti noi anche nel mercato di dicembre Non abbiamo fatto praticamente operazioni in uscita Soltanto qualcuno in entrata Tutti fatti di ragazzi che per bene Che volevano sposare questo progetto Non sposare il rimborso economico Ti devo dire Paolo che con questa stagione di Extra Time Naturalmente abbiamo ospitato tantissimi ragazzi Devo dire che la figura del calciatore mi sembra che sia un po' cambiata Perché ragazzi come Stefano Insomma sono davvero come dire impegnati nel calcio Ma molto con la testa sulle spalle Nel senso che comprendono che magari Questa stagione della loro vita Poi insomma lascerà spazio anche ad altro E quindi sono molto concentrati Proprio sulla loro realizzazione umana direi Io penso che i ragazzi sono fantastici Stefano Lui lo sa Io lo adoro Perché lui ha sposato veramente L'anno scorso era in Lega Pro Con il Taranto È bella perché è matto Lui se ne ha lasciato un contratto in Lega Pro Ora ce l'ho raccontato Qualche retroscena Ora ce l'ho raccontato Poi ha avuto la sua Spero fortuna Sfortuna Di incontrare me nel percorso Noi eravamo in promozione l'anno scorso Quando lui è arrivato Che erano ancora gli inizi Noi veramente non avevamo niente Noi quando abbiamo iniziato l'anno scorso Abbiamo iniziato a settembre Con tutte le squadre fatte Chiamandoci Teramo Stai parlando naturalmente Del torneo di promozione L'anno scorso E chiamare lui Io quando lo chiamavo Una volta ho detto Guarda io mi vergogno a chiamarti Però se non lo faccio Penso che me ne potrò pentire Per tutta la vita Ho detto Questo è il progetto Tu sei di Teramo E io come te Voglio trascinare Tutti quanti quelli che amano Questa città Se tu l'accetterai Sarai tu a scrivere Insieme agli altri La storia di Teramo Quindi Lui è uno degli artefici di questo Poi Un giocatore che non lo devo giudicare io A me è sempre piaciuto L'ho sempre Voluto Non me l'hanno fatto prendere Negli altri anni Quindi quando ho potuto farlo L'ho fatto subito Beh Stefano Direi che con Un input del genere È difficile dire di no No? Beh sì L'unica cosa A parte La stima che c'è Reciproca È il fatto Comunque di Anche giocare per la mia città Io ero a Taranto Partì in ritiro a luglio E a settembre Settembre-ottobre Mi dissero Che comunque Non facevo parte del progetto Comunque sia io Non volevo accettare Di essere fuori rosa E rimanere lì Certo Diciamo Paolo Avrebbe tranquillamente trovato Un'altra sistemazione Categorie superiori Nettamente superiori Senza dubbio Eh sì sì Però è arrivata la chiamata È arrivata questa chiamata È Ci ho preso anche la multa Oppure la multa Ho preso la multa Per la trattativa Raccontiamo Raccontiamo Perché come è avvenuta Questa trattativa Perché il signorino Si era addormentato Ah Io avevo parcheggiato Già avevo messo il parchimetro Poi quando è arrivato Poi io siccome sono un po' Logorroico L'ho dovuto convincere Un bel po' di tempo Per parlare 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 E poi La cosa bella È che è stata Una trattativa segreta Che sapevamo soltanto io Lui E Ivan Speranza Che era il nostro capitano Che oggi è il nostro club manager Capitano storico del Teramo E quindi Nessuno sapeva di questa trattativa Neanche la società La società Io gli avevo soltanto chiesto Se ci fossero le condizioni Per poter avviare Eventualmente una trattativa Loro mi dissero di sì E tu hai bene Ho detto Comunque era una trattativa Che era saltata un mesetto prima Perché ovviamente Lui ancora non sapeva Ma non per Teramo Io lo capivo C'è andato dalla riga Prova a promozione Certo Penso che potrebbe distruggere chiunque Poi Qualche cuoricino la mattina Qualche Qualche parolina dolce L'ho coccolato E poi si è convinto È stata penso La trattativa più bella Che ho fatto Da quando faccio questo lavoro Sono belle tutte Però la sua È stata Diciamo che è stato Amore a prima vista Tra di noi Perché c'è proprio Tutto cuore In questa trattativa Assolutamente Sì 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 È stato È stato soltanto Veramente Veramente quello E quindi di questo Io lo voglio ringraziare L'ho sempre fatto Ma pubblicamente Perché lui È l'anima Come qualche altro ragazzo Quest'anno ne sono Se non sbaglio 10-11 ragazzi Di Teramo Questo è un nostro obiettivo Un obiettivo societario Non mio Io faccio parte Di questa società Quindi se dovesse uscire Dalla mia bocca La parola mia Non è mia Nel senso di Paolo Tercole Ma mia come società Noi vogliamo creare Questa terramanità Che io Ho detto Dal primo giorno Sono arrivato Che manca Teramo Cioè dare quell'amore Alla città Cioè si era un po' perso Secondo te Si è perso Perché tutte queste vicissitudini Negli anni Che Queste incertezze Ricordiamo che Teramo Insomma Ha sempre militato Nei professionisti Quindi È stato un po' Un incidente di percorso Questo di militare Nei campionati regionali Adesso come farsi Che questo incidente Non avvenga più Quindi c'è bisogno Di vicinanza In tutti i sensi Dal punto di vista Economico Pubblico Calciatori Riniziare con le scuole calcio Settori giovanili Ragazzi A riapproparsi Riapproparsi Dell'amore Della propria città Non pensare di scappare È un po' quello che è successo All'Aquila Non so se A tuo avviso Potrebbe replicarsi Questo schema Io penso che quello Che hanno fatto all'Aquila Sia qualcosa di Eccezionale Quasi unico Che adesso Qualcuno proverà A copiare A scopiazzare Io penso che gli originali Non si possono mai copiare Quindi Però oddio Ispirarsi a un modello Del genere Non sarebbe Assolutamente sì Perché loro sono Un'ispirazione Perché stanno facendo Veramente Qualcosa di fantastico Io gli faccio i complimenti Assolutamente A loro Perché Sono veramente Insomma unici E quest'amore Di prima di tutto il campionato Stiamo vincendo il campionato Con una squadra Che si doveva salvare E con me c'era Marco Pomante Che è il mio attuale allenatore Il nostro attuale allenatore C'era Marco Sanzovini Che penso che a Pescara Conoscano tutti Io ho avuto la fortuna Da dipendente del Pescara Che ora è a Pineto A conoscerlo Come uomo E Notaresco Da quel momento È una società Riconosciuta In tutta Italia Fino a quel momento Non penso che fosse Conosciuta In tutta Italia Quindi Per far capire Quanto sia veloce Il veicolo Calcio Per Tutte le città E per tutti gli ambienti Allora facciamo così Ci andiamo a sentire Un po' di interviste Perché oggi Celebriamo giustamente Il terramo Con questa grande cavalcata Poi però guardiamo Già il futuro Quindi Stefano ci dirà Se è già in corso Un'altra trattativa Tipo quella Oppure se non ce ne sarà bisogno Ma ce lo dirà Tra pochissimo Perché ora ci andiamo a sentire Un po' di interviste Partiamo con Il Il presidente E la sua emozione Nel Dopopartita Col Capistrello Sentiamo Una soddisfazione Un sogno Più che una soddisfazione Credo che Oggi si realizza Per me Un sogno Da bambino Quando quel tifoso del Teramo Che calcava le gradinate Il campo comunale Oggi Vivere qui Un'esperienza Da presidente Segnare un pezzettino Di storia Una storia Di una società gloriosa Che naturalmente Deve risalire Deve risalire Le categorie Che gli competono Però sono contento Soddisfatto E oggi dicevo È la giornata dei grazie Per quello che mi riguarda La giornata dei grazie Grazie a tutti i soci Che mi sono stati sempre vicino In questa cavalcata Un grazie A tutti gli sponsor Che ci hanno Aiutato In questo Percorso Così importante Anche da un punto di vista Economico Un grazie Naturalmente A uno staff Tecnico Dirigenziale Credo Di altissimo livello Un grazie Anche a chi Oggi non c'è più Permettetemi La dedica più grande A due tifosi Su tutti Che conoscevo bene Che amavano il terra Ma so che oggi Stanno gioiendo Dall'assù A Benedetto Presante E all'ingegnere Ignio Marcozzi Credo che loro Meritassero questa vittoria Noi ce l'abbiamo messa Anche per loro A fare questa cosa Una bellissima dedica Questa del presidente Vero? Assolutamente Anche mister Pomante Ha dedicato La vittoria Al papà Tra l'altro C'è un tandem Con mister Pomante Tra te e lui Paolo Sì sono già diversi anni Che siamo insieme Prima da calciatore E poi Adesso da allenatore Ho sempre creduto in lui Dal primo giorno Infatti quando mi chiamarono L'anno scorso a Teramo Per Si parlava di serie D Di ripescaggio in serie D Mi chiesero Se avevo in mente Un allenatore Io feci Solo il suo nome E l'ho misi Come condizione Eventuale Di se avessero scelto me Se ero io Era lui l'allenatore Se no Non sarei Non l'avrei accettato Ma perché Avevo bisogno Di iniziare Un qualcosa Con qualcuno Di cui mi potessi fidare Non di qualcuno Di cui Con la fiducia Ma la dovevo Costruire Poi magari anche È difficile Nel calcio Insomma Sentiamo continuamente Voci Adesso l'allenatore Salta Però Sarebbe meglio È meglio Anche programmare Con Appunto Magari un tandem Come il vostro Uno staff Uno staff Tecnico Per ottenere Anche dei risultati No Questa è una scelta Che farà La società E io penso Che lui E il suo staff Siano Di altissimo livello Ma soprattutto Dal punto di vista Umano Con i ragazzi Hanno creato Subito Un'alchimia fantastica Perché Sanno scherzare Sanno lavorare Sono veramente Belli da vedere Quindi io Mi diverto Ogni giorno A vederli allenare Perché ogni giorno È un nuovo giorno Quindi Sono strafelice Spero che questo Questo lavoro Insieme Possa continuare Ma se dovesse essere Che avrà Chiamate importanti Il mister Io Sarò il primo A fargli complimenti A fargli in bocca al lupo Stefano Tu intanto Partiamo da te Tu dopo questo Gesto Atto Di cuore Per La città E per la squadra A questo punto Rimarrai No? Certo Non c'è la trattativa Che scherzo Come me Sennò poi dobbiamo ricominciare Con la trattativa Non si doveva fare la domanda Cioè Ti l'ho già detto Non c'è la trattativa Non c'è una scelta Per poter Decidere La volontà mia È quella di rimanere a Teramo Per sempre Comunque Continuare questo progetto E cercare di riportare Il Teramo Nei professionisti Perché comunque È quello che mi Che mi sono ripromesso io Quindi essere protagonista Sicuramente Adesso è il momento Di festeggiare Le valutazioni Saranno fatte Penso Tra una ventina di giorni La società vedrà Io intanto Mi rilasso Mi godo un po' Questa vittoria E poi sicuramente Parleremo io E il direttore E troveremo un accordo Anche perché Certo Lo troverete sicuramente Anche perché Non è alternative Stefano L'ha appena detto Paolo D'Ercole Quindi Sono sincero Quindi Sappilo Come è che Dico sempre La frase E lui dice Sempre la frase I patrimoni Si fanno in due Sempre In questo caso Vi siete già sposati Meno che non intervenga Qualcosa Ma no C'è questo amore Così florido Quindi Sicuramente Non pensiamo al divorzio No Non ci stavo pensando Ancora Pomante ha già detto Che lui vorrebbe vincere Il torneo dei professionisti Colteramo Chiaramente Adesso si apre Una nuova pagina Paolo Perché la serie D Lo stiamo vedendo Quest'anno È un campionato Bellissimo Ma Davvero Una mini serie C Molto difficile Squadre attrezione Atrezzate fortissime Io penso che il girone F Quest'anno E l'anno prossimo Secondo me Ancora di più Saranno allo stesso livello Di un girone di Lega Pro Proprio Non so perché Si stavano aspettando noi Per questa cosa Però Io che l'ho fatto Per tanti anni Non l'ho mai visto Così difficile Se noi già guardiamo I play out Eventuali Di Lega Pro Nel girone B Ad oggi sono Quattro marchigiane Nell'eventualità Dovesse rimanere Speriamo di no Due potrebbero scendere E chiunque scegli di queste Allora guarda Chiedo alla regia Di mandarcela Alla classifica Della Lega Pro Così vediamo Proprio compiutamente Quello che dicevi Perché effettivamente Noi siamo un po' Troppo abituati A occuparci del pescare E guardare le zone alte Della classifica E non ci concentriamo Spesso sulle zone basse Anche perché col Pineto Che si è salvato Anzi Aveva quasi ambizioni Di play off Quindi ce ne andiamo a vedere Perché effettivamente Paolo guarda già Lungo E ci vede Lungo Quindi vabbè Abbiamo visto Studiato ampiamente La parte alta Della classifica Col Cesena Che è tornato Meritatamente in Serie B Poi con i play off La griglia dei play off Che ormai È chiara E il Pescara Non è riuscito Perdendo in casa Con l'Ancona Ad agguantare La quinta posizione Quindi rimane Lì dov'è Con i play off Che inizieranno Praticamente subito Per quanto riguarda Invece la parte bassa Paolo giustamente Dicevi che Al di là dell'Olbia Che è già retrocesso Fermana Pesaro Fermana tra l'altro Il prossimo avversario Del Pescara Pesaro Re canatesi Ancona Eh quindi Che già Quindi Che gli scendi Sono contento Che non ci sono Abruzzesi Intanto Da Abruzzese Perché Fineto ha fatto Un campionato Sono estrepitoso Il Pescara Purtroppo C'è stato qualche problema Che è successo Secondo te Al Pescara Eh Sono quelle annate Che Che non riescono Ad andare Anche domenica Un atteggiamento Peccato Perché sembrava quasi Che avesse Preso la ritorno A me dispiace tanto Ho lavorato tanti anni Al Pescara Sono di Pescara Sono stato Uno della curva Sono stato Tifoso Vado appena posto Allo stadio Sono legato a molte persone Che sono lì Mi dispiace Però sono annate Che bisogna Saper accettare Anche Nella loro Negatività Come positive Per capire Se mai ci fosse Cambiate penso 20 su 20 Se Zeman Fa questo Evidentemente Non Un'incapacità Societaria Di Dargli quello Che serve Probabilmente Lui non è riuscito A creare Un'empatia Con i giocatori E a farsi E a farsi seguire Quest'anno Per minutaggi Presi dalla Lega Giovani Di qualità Significa Comunque Progettualità Penso che Pescara Abbia dei ragazzi Interessanti Parliamo di Merola Un dispiacere Forse Non aver trovato Quell'attaccante Che ti dava Qualcosa in più Un Stefano Degidio Insomma Praticamente No però Sai che Parlare il lunedì È più facile Il problema È quando Le fai le cose Io penso Che uno sbaglia Soltanto Quando è consapevole Che sta sbagliando Quando invece Non si è consapevole Si pensa Che si sta facendo bene Non c'è un errore Ma poi insomma Effettivamente Le variabili sono talmente tante Vediamo il Napoli Quest'anno Insomma Parliamo di una squadra Scorso E' un camionato Quest'anno Entra neanche in Europa Quindi Cioè Come lo giustifichiamo Questa cosa La squadra Ben o male L'ossatura è questa Non posso pensare Che perde un difensore E la squadra Da prima Diventa decima Non è così Si creano Quelle magie L'anno scorso Ha creato una magia Lì a Napoli Pescara l'anno scorso Era A un Secondo Dalla finale Playoff Non dico neanche Un secondo Un errore Io ho ancora in mente Il fallo laterale Buttato fuori Col foggia Poi peraltro Quindi Tante cose Che Poi quest'anno Ancora non riesce Però io Adesso non farei Il funerale Al morto Perché comunque Ci sono i playoff Da giocare Il Palermo Da settimo in classifica Tre anni fa Ha vinto i playoff E è salito Il tifoso Ci deve credere E adesso deve Sostenere la squadra Per forza Perché Ma per il bene Della città Per il bene Dei tifosi Tutti vogliamo Ma tutto Abruzzo Deve volere questo Più sale il livello Più La regione Continua a crescere Cominciamo pure A cacciare Qualche buon giocatore Allora A proposito di tifosi Li hai citati Ce li andiamo a sentire I tifosi del Pescara Sono 50 secondi Sentiamo che cosa Ci hanno detto Dopo questa Sconfitta con l'Ancona All'Adriatico Vogliamo semplicemente Una squadra un po' più competitiva Che lotta E ci metta un po' di grinta Perché è così Proprio zero Perché è così Siamo salvati Siamo benissimo Ci ho visto una squadra Che soprattutto i centrali di difesa Al secondo gol Imbarazzante Imbarazzante Come atteggiamento Forma fisica Solutamente imbarazzante Non è solo colpa sua Penso di non chiedergli niente Perché la squadra Sicuramente Non ha fatto un buon campionato Quindi probabilmente Lui Speriamo che ci sono Tre o quattro elementi Che sono buoni Che non abbia necessità Di venderli E così Magari come si dice Si fa il famoso Zoccolo duro E da lì in poi Magari acquistare Degli altri giocatori Che possono valorizzare La squadra Sono un po' giovani Dovrebbero farsi Un po' le osse Crescere un po' Però qualche giocatore L'ho visto abbastanza bravo Se la cava E quindi Questi tifosi Dopo la partita Chiaramente delusi Stefano Non è che se ti chiamo il Pescara Ci troviamo a dover rompere Questo matrimonio Questo silenzio Non ci fa Insomma Cos'è questo silenzio Stefano? No 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 Rimaniamo a Teramo Sì sì Il mio amore è per Teramo Il mio amore è per Teramo Anche perché Insomma L'ambizione è quella Di tornare subito Nei professionisti L'ambizione L'anno scorso Prima intervista che ho detto In promozione Ho detto Il mio obiettivo è andare in Serie A La gente mi ha detto Scusa Bisogna avere L'ambizione deve essere questa Una prospettiva Poi giustamente ci sono mille variabili Come diciamo prima Quindi Dobbiamo costruire Intanto Pensiamo a costruire qualcosa di importante Far sì che non succeda più quello che è successo Come ha detto anche il mister in altre interviste Lui vorrebbe essere l'ultimo allenatore dell'eccellenza Non vogliamo andare insomma a rivangare Però perché ti chiedo Si verificano queste situazioni nel mondo del calcio Purtroppo anche spesso dobbiamo dire Quindi Cioè come si fa a rendere sostenibile una società E davvero a pensare in grande Guarda ne stavo parlando prima in macchina con Stefano Il problema di questo calcio è che Si pensa soltanto a un discorso economico Io Sono onesto Loro lo sanno Io sono veramente Diciamo tra virgolette cattivo nelle trattative Io penso che Il calciatore non debba essere un dipendente statale Non deve fare Fa questo perché ama fare questo Io penso che ognuno vorrebbe guadagnare i soldi Facendo quello che ama Diciamo che è anche privilegiato Perché fa Ma è un lavoro diventa la propria passione Io capisco che tutti devono guadagnare Ma le società secondo me devono cominciare a pensare a fare le società Cioè quindi Il calcio è un'azienda Non è un divertimento È un'azienda Quindi dove ci sono tantissime persone che lavorano Perché Io le prime persone che vorrei ringraziare Sono i nostri magazzinieri Team manager Fisioterapisti Tutte le persone La biglietteria Tutte queste persone che c'è intorno C'è un mondo intorno a una società di calcio Quindi non la vivono bene Non stanno bene Non vivono bene soltanto perché prendono lo stipendio a fine mese Perché ne ho visti tanto di giocatori guadagnare tanti soldi E non essere felici Ma le società devono pensare a essere sostenibili La sostenibilità è data da I tifosi devono andare allo stadio È inutile chiedere ai presidenti di comprare i giocatori Dal divano O dal bar Cioè bisogna Seguirla la società Bisogna sostenerla Perché Nessuno è tenuto a dover dare Dottes Bisogna dare Per avere E reciproca la cosa Deve essere sempre così Poi risultati Io voglio vincere L'altra squadra vuole vincere L'altra voglia vincere Alla fine vince una Anche in Serie A Ha vinto l'Inter Non è che In Milan adesso è contento Se fa secondo Quello fa contento Uno vince Poi bisogna vedere Se si è dato tutto Uno vince E le altre non necessariamente Sono scarse O inadempienti No Per quello che quando si pensa Si deve cacciare l'allenatore se non si vince Il direttore non capisce niente Il giocatore è scarso Non funziona così Bisogna vedere che le annate Hanno un inizio E hanno una fine E hanno degli ostacoli Ogni tanto Bisogna essere bravi e fortunati A superarli facilmente Questi ostacoli Noi siamo stati Fortunati Probabilmente Bravi Probabilmente Ci siamo riusciti Ne abbiamo avuti pochi Secondo me Proprio perché Dall'inizio Ne abbiamo superati facilmente Come una famiglia Poi si vinceva Si perdeva Io non ho mai promesso le vittorie Io l'ho sempre detto a tutte le società Se volete uno che vi prometta le vittorie Non mi chiamate Io non ve le posso promettere le vittorie Se no sarebbe troppo facile Io vi posso promettere La professionalità Il rispetto Per i soldi della società Per le società Per tutte le persone che ci sono dentro E l'impegno E io Questa è questa cosa che chiede ragazzi L'impegno massimo Dopo che Il risultato è figlio di Di tante cose Che non possiamo Non possiamo Toccarle con mano È così Stefano Dal tuo punto di vista Dal punto di vista Del calciatore Quando Scendi in campo Prima parlavamo anche di responsabilità Perché voi comunque ce l'avevate tante Quest'anno Qual è il giusto approccio? L'approccio è sempre quello di Lavorare nel quotidiano Negli allenamenti Perché è stata quella La nostra forza Cioè Impegnarsi sempre E poi la domenica È normale che Le cose riuscivano Perché ci mettevamo Il giusto atteggiamento Il giusto attaccamento Alla maglia E i risultati arrivavano È normale Avevamo La concorrenza Comunque contro il Giuliano Quello magari dava Qualcosa in più Però Veramente è stata È stata una cavalcata importante Se ci ripenso ad oggi Abbiamo fatto tanti 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 sacrifici Tutti quanti Tutti quanti Dalla società Alla squadra Allo staff Allora Scusate Mi era un attimo distratta Perché Stiamo per collegarci Con l'amministratore Dell'Aquila Quindi io direi Di andarci A sentire il punto Sulla serie D Poi ci colleghiamo con lui E poi insomma Ci salutiamo Sentiamo il punto Sulla serie D Di Vincenzo Ciccone Sorrisi per l'Aquila D'Avezzano Un pari sostanzioso Per il San Nicolò Notaresco Ed una sconfitta Che fa male Per il Chieti A due giornate Dalla conclusione Nella regular season Quadro Per le quattro sorelle Abruzzesi A simili contorni Superandolo L'Aquila Di Cappellacci Si porta Due punti Alla leader Campobasso E ora Davanti a sé Avrà la trasferta Di Termoli Il 5 maggio Il match interno Con il San Nicolò Notaresco Quello stesso San Nicolò Che infilando Il secondo pareggio Consecutivo Ha fatto saltare Alcune certezze In casa del Campobasso Ed ora Domenica Andrà ad ospitare Un atletico Ascoli Che non ha più nulla Da chiedere al torneo L'Avezzano È in piena zona playoff Con la cura Pagliarini Che ha condotto Con sé Due esplorazioni Successione E la sfida Adesso Domenica Al Dei Marsi Contro il Fano Per dare ancora più forza Alla propria candidatura Ha interrotto Infine a Monterotondo Una serie di sei risultati Utili consecutivi Quattro successi E due pari Nella striscia Il chiede di Luiso Che Domenica L'Angelini Avrà tutti i riflettori Puntati addosso Andando ad ospitare La capolista Campobasso E quindi Abbiamo sentito Il punto Sulla serie D Un campionato davvero Bellissimo Vincente Domenica Ci sarà La doppia sfida Di Chieti Con la squadra Tatina Che affronterà In casa Il Campobasso E la trasferta Dell'Aquila A Termoli Davvero Col fiato sospeso Fino alla fine Ne parliamo Con Un protagonista Assoluto Di questa stagione L'amministratore Dell'Aquila Che ringrazio Di essere con noi In collegamento Skype Goffredo Jukic Ben trovato E grazie ancora Di essere Nostro ospite Buonasera Grazie per l'invito Grazie a lei Qui con noi Ci sono anche Stefano De Giglio E Paolo D'Ercole Capo cannoniere DS del Teramo Freschi di Vittoria Del Campionato Buonasera 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 Come state vivendo Questo momento? Noi siamo sereni Siamo sereni Pieni carichi C'è un entusiasmo In città Che si respirava Da qualche anno Però Grazie al crowdfunding Innanzitutto Rilevamo la società In prima categoria Con un bilancio Di qualche decina Di migliaia di euro E poi tramite Un azionariato Pertare vero Il gommista Il fioraio E poi chiaramente Cresciamo Anche i nostri Contruttori Di vento Importanti Abbiamo costruito Una connessione Il territorio Importante Che ci può Competere Con piazze Di Campobasso San Benedetto Chiedi Senza sfigurare Anzi Penso di poter dire Alla pari E speriamo Insomma Di toglierci Anche qualche soddisfazione Per regalare Alla nostra città Che è impagabile E che ci dà tantissimo E ci permette Di fare quello Che facciamo Un'ulteriore giornata Paolo Non so se Volevi dire qualcosa Chiedere qualcosa A Dottor Jukic No Io posso tanto Rinnovargli Come ho detto prima I complimenti Perché come ho detto prima Penso che all'Aquila Sia stato fatto qualcosa Di unico E magico Dopo tutto quello Che è successo Alla città E io da abruzzese Sono strafelice Spero Non dico niente Ma spero che Che ce la possono fare Anche perché Hanno qualche giocatore Che ho avuto io Soprattutto uno Che è Banegas Sarei felicissimo Per lui L'ho avuto tre anni E conosco il ragazzo Conosco il suo valore Sia umano Che calcistico Ma soprattutto Per quello che loro Stanno facendo Loro Sono un esempio Per Per l'Italia sicuro Poi per l'estero Non lo so Ancora mi devo informare Ma per l'Italia sicuro Perché fanno capire Che Che il calcio È amore E loro veramente Stanno dimostrando Che Si può fare qualcosa Di importante Se lo vogliono tutti È così Ricambio intanto I complimenti Perché avete fatto Una stagione meravigliosa E una piazza Come Teramo Merita Di stare Perlomeno In Serie D E poi Sì Noi riceviamo Telefonate Da tutta Italia Per il momento Perché in tanti Ci chiedono Come avete fatto A superare Il vecchio concetto Di calcio Che era legato Al mecenata Al gruppo industriale Come avete fatto voi Semplici tifosi A costruire Questo percorso È evidente È un percorso Fatto di sacrifici Di tempo sottratto Alle famiglie Di tempo sottratto Alle nostre occupazioni Principali Ma è un discorso Basato appunto Sull'amore Per la nostra terra E quando c'è amore Quando c'è un gruppo Di persone Che condividono Un obiettivo Diventa tutto possibile Io vi dico Onestamente Quando in prima categoria Partimmo Non avrei mai pensato Di stare qui oggi A parlare Di un possibile salto In Serie C Poi non dipenderà Solo da noi Se non è quest'anno Ci proveremo L'anno prossimo Ma comunque Si ha qualcosa È tanta roba Come si dice In gergo Dottor Jukic Però l'anno prossimo Ci sarà anche il Teramo Quindi poi si farà Ancora più tosta Quindi forse è meglio Pensarci In queste ultime Due partite Sto scherzando Noi cercheremo Di andare via prima Cosa farà la differenza E poi La lascio In questo Rush finale Così Così bello Perché dai Ci stiamo proprio Divertendo tanto C'è un grandissimo Spettacolo In questo girone F Quindi siamo felici Noi fruitori Del calcio Insomma Voi avete più Emozioni contrastanti Noi Ce la stiamo godendo Cosa farà la differenza Io vedo Un vento buono Positivo Le dico Quando abbiamo affrontato Al Gran Sasso La San Benedettese I ragazzi della Samba Scesero dal Pullman Che sembrava Che avessero un sacco Di patate Sulle spalle Una tensione Enorme I nostri ragazzi Questa tensione Non ce l'hanno Ho visto la partita Di domenica Del Campobasso Che non è riuscito A vincere con il Notaresco Al novantesimo Erano testa bassa Sotto la curva Mentre i nostri Erano sotto la nostra Curva a festeggiare Noi abbiamo Diciamo In questo momento La serenità E l'entusiasmo Che forse Da qualche altra parte Pur avendo un vantaggio Preziosissimo Perché due punti A due domeniche Dalla fine È un vantaggio enorme Certo Però magari Questa nostra spensieratezza In altre situazioni Non c'è Eh beh Insomma È una chiave Di lettura giusta Perché chiaramente Voi state inseguendo Loro hanno Un ulteriore Insomma Pensiero Di dover Quindi insomma Non avete niente da perdere E quindi Giustamente Ci aspetta una gara Difficilissima A Termoli sarà Purissima Come no Non ce la portiamo da casa Come d'altra parte Però anche Chiedi Ha la possibilità Di fare il playoff Quindi Domenica Domenica sera Sapremo di più Saranno due partite Vere E sicuramente Bellissime In bocca al lupo E grazie di essere stato con noi A Goffredo Iukic Amministratore dell'Aquila In bocca al lupo Grazie a te per l'invito A presto A presto E allora Nel salutare Paolo e Stefano Ci rivediamo Magari quando Abbiamo messo qualche tassello in più Per la prossima stagione Sicuramente Magari Sapendo chi Tra Campobasso e l'Aquila Ci sarà Tu Il tuo pronostico Stefano Io spero l'Aquila Giustamente Da Abruzzese Spero l'Aquila Quindi Proprio staremo fino alla fine Con Col fiato sospeso Però Potrebbe essere anche Poi questo l'ho detto un mese fa L'ho detto Se me ci sarò lo spareggio È uno scenario che non è Peregrino Insomma potrebbe essere Allora intanto Complimenti ancora Perché siete stati Veramente Protagonisti Di una stagione bellissima Si parla spesso del calcio regionale Avete dimostrato Che il calcio regionale Ha un altissimo livello Grandi motivazioni Quindi Stefano Ha fatto un triplo salto Carpiato Per stare nel Teramo Quindi Arriviamo a 30 gol Ci proviamo Ora siamo a 27 Con quelli in coppa Sì Al 33 Arrivo a 30 Così La squadra Batte il record di gol Nell'eccellenza E batte il record di pugni Quindi In una stagione da record Ci starebbe Scriviamo la storia Del campionato di eccellenza Bene Ricordiamo anche l'Isernia Con la promozione In Serie D Quindi tanti complimenti Anche all'Isernia Vi ritroverete Con ogni probabilità Nel Giron F Vedremo Paolo grazie Grazie a voi Grazie a te In bocca al lupo Anche per il futuro Ci vediamo presto Ok Noi ci sentiamo Altre interviste Che abbiamo realizzato Proprio al Bonolis Bye Sì Sono contentissimo Per il gol Per la prestazione Della squadra E soprattutto Per il gran campionato Fatto Perché Molte persone Davano per scondato Questa cosa Ma è stata dura Partire il 20 luglio Con parecchie difficoltà Inizialmente Ma Penso che solo un gruppo Come questo Potrà fare una cosa del genere Quando giochi In una piazza Così importante Valle doppia Come vittoria Perché tantissime persone Ci hanno seguito Sia in casa Che fuori E anche quando giocavamo Fuori casa Sembrava di giocare in casa Una promozione Bellissima Meritata Dall'inizio del campionato Che siamo Prima in classifica Quindi Non vediamo l'ora Di festeggiare Oggi tutti insieme Quindi Bellissimo Sicuramente Il secondo sogno Che l'anno scorso Abbiamo vinto Ho vinto il primo campionato Con il Teramo In promozione E quest'anno L'eccellenza E sono sincero Per me È un orgoglio Grandissimo E A livello di emozione Non so spiegartene Realmente a parole Però io da Teramano So Quanto per me è importante Portare questa maglia Indossare questa maglia Tutti i giorni E vincere un campionato Che sia di eccellenza Che sia di Serie A Per me Ha sostitato La stessa importanza Una giornata storica Per Teramo E una giornata di festeggiamento Sì Oggi è la giornata della festa Questo risultato così importante Una cavalcata Che segna un altro passo Verso la scalata Che da una situazione Drammatica di crisi Ci ha visto far rinascere La società La città di Teramo Devo ringraziare tutti Coloro che hanno reso possibile questo Ma ovviamente i ragazzi In primo luogo La società La città di Teramo E tutti i tifosi Perché oggi è la festa A loro La festa di chi ha reso possibile Veramente questo risultato Che oggi ci consente Di guardare al futuro Ovviamente con una fiducia Diversa E soprattutto Verso quelle categorie Che la città merita Rientriamo per l'ultima parte Di Extra Time Che come sempre Dedichiamo Ad altre discipline sportive Oggi in particolare Parleremo di una manifestazione Bellissima Che c'è stata qualche settimana fa A Pescara E annunceremo Tanti altri eventi Che questa città Ospiterà Perché questa è una città Che ama lo sport È un binomio davvero Un binomio davvero Inscindibile Pescara e sport E allora Do il benvenuto A Patrizia Martelli Assessora Allo sport del Comune di Pescara Bentrovata Patrizia Bentornata Grazie Bentrovata Valentina È sempre un piacere Essere qui in vostra compagnia E un caro saluto I nostri telespettatori È un piacere per noi Perché insomma A Pescara si organizza Talmente tante iniziative Che non riusciamo A parlarne A parlare di tutte Nei nostri TG Quindi ogni tanto Mi piace fare una sintesi con te Perché è bello Dare queste notizie Dare la possibilità Alle persone di partecipare Come le iniziative Che organizza la WISP E quindi ringrazio Per essere con noi Nei nostri studi Di via Tiburtina Alberto Carulli Ciao Alberto Bentrovato Ciao Valentina Grazie dell'invito E un caro saluto Ai telespettatori Di Teleregione Grazie Tu sei una colonna Della WISP Che è una Da quanti anni? Da quanti anni? Da 25 anni Però complimenti È un'attività Ininterrotta C'è tanta passione Dietro Davvero Complimenti Se non hai passione Non puoi fare Quello che ho fatto io E riuscite a coinvolgere Sempre Migliaia di persone Tra poco vedremo Le immagini di Vivi Città Che c'è stata Quando Patrizia? Il 19 aprile Il 19 aprile 1200 Sì 1200 atleti Provenienti a tutto Il territorio nazionale 800 camminatori E in più C'è stata Questa splendida La passeggiata metabolica Per promuovere un corretto Stile di vita Quindi davvero Una grande manifestazione Grande successo Diciamo una giornata Per tutti Per chi Alberto voleva gareggiare E per chi voleva Godersi La città Soprattutto per veicolare Come diceva Patrizia Il messaggio del benessere Sì infatti Noi siamo Wisp Sport per tutti Perché cerchiamo Di aprire sempre A tutti Facciamo anche Molte attività Con i disabili Sport per i disabili Quindi Il nome Sport per tutti Ci rappresenta Tantissimo Io questa cosa La rimarcherei Anche con te Patrizia Perché Come comune Davvero state promuovendo Tantissime Attività inclusive Proprio Come nella mission Della Wisp Valentina Più di una volta Abbiamo detto Che sport e inclusione Sono un binomio Perfetto Sì E con questo evento Che è il primo evento Del 2024 Targato Wisp Non abbiamo parlato Soltanto di sport Ma anche Di inclusione Di solidarietà Ma anche di prevenzione Quindi Lavorare con la Wisp Per me è davvero Un vero piacere Ho avuto L'occasione Ho avuto il piacere Di conoscere Il nostro presidente Alberto Carulli Cinque anni fa Ed è stato lui A farmi conoscere La grande famiglia Wisp Quindi davvero Grazie presidente Grazie a te Patrizia Che bello È bella questa sinergia Perché È molto sincera È molto fattiva E a proposito di questo Alberto Volevo chiederti Per organizzare Una manifestazione Del genere Voi ormai Insomma avete una macchina Ben rodata Però non è semplice Perché garantire Anche la sicurezza A tutte queste persone È veramente Molto più complicato Vivi città soprattutto Ma anche le gare più lunghe Di atletica Tipo la maratona D'Annunziana Che si terrà più avanti Perché città Tutte le chiusure Delle strade Ogni angolo Va messo Il personale C'è una burocrazia Però prima Valentina Dobbiamo annunciare Bici in città Che si terrà Proprio il 12 maggio Il giorno della festa Della mamma È un'iniziativa proposta Proprio per la cittadinanza Di Pescara Ma soprattutto Per tutte le scuole È iniziata Già una macchina Organizzativa Più di tre mesi fa Dove abbiamo istituito Un tavolo tecnico Con tutti i rappresentanti Delle scuole Con tutta l'associazione Organizzatrice E soprattutto Con la UISP Anche lì saremo Più di mille persone Ricordiamo che È un evento Patrocinato Dal Ministero dell'Ambiente Dalla Regione Abruzzo Ma anche dal Comune di Pescara Col supporto Del mio assessorato Stiamo vedendo Proprio le immagini Dello spot Vero Alberto Che avete Sì sì Proprio lo spot Dei bicicettati Presentato Si parla anche qui Di inclusione Che poi Insomma La bicicletta È Un mezzo Utilizzato Da tantissime persone A Pescara Cioè È veramente Un'alternativa Ad altri mezzi Quindi Fa parte proprio Della cultura Certo Noi stiamo Proponendo a tutti Un'alternativa Al mezzo Meccanico Cerchiamo di promuovere La mobilità Sostenibile Al meglio Ma vogliamo educare Proprio i nostri ragazzi All'uso Della bicicletta Io ho due ragazzi E ogni giorno Cerco proprio Di educarli A prendere Non un mezzo Meccanico Ma l'uso Della bicicletta Del monopattino Cerchiamo di sostenere L'ambiente Al meglio Si hai ragione Ci vuole proprio Una sorta di educazione Un po' per tutti Anche per gli automobilisti Perché poi parliamo Appunto Di transizione ecologica Di ambiente E poi bisogna farlo Nel proprio piccolo Ognuno lo può fare No? Si E' così E' vero E noi con Bici in città Grazie al nostro presidente Alberto Carulli Abbiamo cercato di Incentivare i nostri ragazzi Innanzitutto Per la prima volta Abbiamo avuto il sostegno Anche della presidenza Del consiglio regionale Abbiamo messo insieme Una bellissima idea Ovvero quella Di regalare Più di mille magliette E invogliare i nostri ragazzi Soprattutto le famiglie A partecipare A questa splendida Pedalata cittadina Bello bello Adesso Alberto Ci spieghi un po' Come si svolgerà Proprio Allora La mattina Alle 9 C'è il ritrovo Le iscrizioni Il ritrovo dove? A Piazza Salotto A Piazza Salotto Parliamo del 12 di maggio 12 di maggio 8 e 39 Il ritrovo Saranno le iscrizioni Le iscrizioni A offerta Il ricavato Lo devolveremo All'Ampas Di Pescara Ogni anno Scegliamo Un'associazione Diversa E poi Saranno un paio Di coreografie Lì Sul palco In Piazza Salotto Alle 10 Si partirà Si partirà Verso Via Regina Margherita Contromano Verso Monte Silvano Fino a Via Le Mazzini Poi si girerà A destra Si prende Via della Riviera Direzione Nord Via Cavour Via Le Bovio Si torna All'ex passaggio A livello Per chi lo sa Su Via Silvio Pellico Via Leopoldo Musi Si torna Su Via Regina Margherita Quindi tutto all'interno Più o meno del centro Diciamo Poi si passa Si passa A Piazza Salotto Per i bambini Che si vogliono Fermare Al primo passaggio Andiamo fino a Via Venezia Giriamo su Via Venezia Passiamo su Corso Vittorio Emanuele Direzione Nord Via Teramo Andiamo su Via del Circuito Piazza Pierangeli Prendiamo Lungo Fiume dei Poeti Via Valle Roveto Poi Lungo Fiume dei Poeti Lungo Mare Matteotti Rientriamo in Via Galilei E arriviamo a Piazza Salotto Sono 10 chilometri Lo sei ricordato tutto precisamente Sì perché l'ho studiato benissimo L'hai fatto tu praticamente Il percorso Assolutamente sì 10 chilometri Sono 10 chilometri precisi Volevo dire che comunque Bici in città E' una manifestazione A livello nazionale Partono Quel giorno partiranno Da oltre 100 città italiane In Abruzzo e in Molise Che io rappresento Si farà a Teramo Pescara E a Campobasso Bello E quante persone sono previste quindi? Ma guarda Sul Pescara è un incogno Perché veramente Quest'anno abbiamo coinvolto Tutte le scolaresche Che poi è aperto a tutti Ognuno quel giorno può venire Ho la propria bicicletta L'anno scorso Nonostante abbiamo rinviato Due volte per il maltempo Siamo arrivati a 500 persone Però quest'anno Veramente puntiamo Perché abbiamo fatto una squadra Con tutti i mobility manager Poi c'è il Tito Cerbo Che fa il centenario Abbiamo coinvolto altri istituti superiori Il Mantonee Il Tito Cerbo La scuola ovviamente Che bello Che poi Prima chiedevo Patrizia Perché c'è anche il centenario Della Coppa Cerbo Quest'anno Quindi insomma Tanti eventi che si susseguono Valentina Sono tantissimi Che abbracciano tutte le discipline sportive Sì, consideriamo che domani ci sarà la conferenza stampa Per annunciare i campionati italiani di SAP Che si svolgeranno presso la Lega Navale Sabato e Domenica E subito dopo Poi ci sarà la nostra maratona D'Annunziana A fine settembre Non possiamo dimenticare Il nostro Matteotti Giunta alla 76esima edizione Un evento storico Non solo Poi il 13 luglio Avremo la rievocazione Del centenario della Coppa Cerbo E il 14 luglio La partenza del Giro d'Italia Stiamo aspettando anche tanto quell'evento Di cui abbiamo spesso parlato Ci occupiamo anche di ciclismo naturalmente Ma vorrei sapere da te Questa grande partecipazione che c'è sempre In queste giornate Cosa rappresenta? Cosa significa? Le persone hanno voglia proprio di stare insieme Anche di riscoprire dei valori Che sono propri dello sport Sì, ricordiamo sempre che il nostro capoluogo adriatico È vocazione sportiva Io come sai sono ormai 5 anni Che mi sono insediata nell'amministrazione Io ho avuto questo grande privilegio Di avere la delega allo sport Ho avuto la possibilità L'onore e il piacere Di conoscere tantissime associazioni Nel nostro territorio Associazioni veramente che danno l'anima Che danno il cuore E sono sempre pronte A proporre delle nuove idee Delle nuove sfide Io da assessore cerco di supportarle al massimo E il risultato è vincente Perché c'è amore, c'è lavoro Sì, perché poi quando si crea questo legame No Alberto? Con le associazioni Che poi il mondo del terzo settore Che è molto variegato Che opera in tantissimi ambiti Però rappresenta davvero Il braccio operativo della comunità Assolutamente Allora L'importanza di un amministratore Che ti aiuta Nel realizzare le cose È fondamentale Patrizia è una macchina da guerra Io ho avuto a che fare Con tanti assessori allo sport Pensavo quando La scorsa legislatura Che c'era Giuliano Giudati Che mi sono trovato benissimo Ho detto Ah finalmente Poi mi sono ripetuto Perché voglio dire Ha battuto anche Cioè lei è veramente Una macchina da guerra Mai conosciuto Ma non nello sport Come amministratore Veramente Beh beh Questo è positivo Perché poi appunto Ripeto C'è tanta scelta Di manifestazioni Di occasioni Però le persone partecipano Quindi questo vuol dire che Allora Tu considera Valentina Che noi Cerchiamo sempre di organizzare Tutto al meglio Io dal primo giorno Ho istituito tavoli tecnici Sempre per non creare disagi Ma soprattutto Per dare il giusto supporto All'associazione E poi ai partecipanti Nel momento in cui Noi organizziamo Un evento Se è benissimo Che spesso e volentieri Chiudiamo le strade La città deve essere bloccata Per cause di forza maggiore E quindi Il nostro impegno Deve essere al massimo Per ospitare Tutta la città di Pescara Però al meglio Certo Ma io penso sicuramente Che quei piccoli disagi Che si creano Poi siano compensati Dalla bellezza Di queste occasioni Perché le persone poi amano Rende sicuramente La città viva Comunque Consumano Vanno a dormire Perché Quando arrivano gli stranieri Qua c'erano anche gli stranieri Che vanno a dormire negli alberghi Vanno nei ristoranti Comunque Crea anche economia C'è un indotto Tutto un indotto economico Il turistico Il disagio Il disagio Per chi non interessa La manifestazione C'è Però si fa Per far crescere Anche la città Perché comunque Si parla di Pescara Durante il weekend Pescara Si riempie di gente Ed è una cosa fondamentale Comunque Aiuta l'economia A crescere Si si Poi insomma C'è anche questa piacevolezza Di stare insieme Perché bisogna Sempre poi Sottolineare questo aspetto Il bello che si stanno abituando I pescareti Per fortuna A questi disagi Imparano a sopportarli Ci sostengono anche loro Poi insomma Anche la regione Bisogna dire Che ha sempre puntato Sullo sport Stiamo vedendo ormai Col Giro d'Italia Che è diventato Un appuntamento fisso C'è stato il Giro d'Abruzzo Anche lì Patrizia Si è creato qualche disagio Però insomma È stata talmente bella Questa manifestazione Una vetrina importante È stata una vetrina importantissima Per la città di Pescara Perché è tornata dopo 17 anni In Abruzzo E l'abbiamo accolta al meglio Se benissimo Valentina Ne parlavamo proprio l'altro giorno Noi abbiamo saputo Del Giro d'Italia un mese prima Ma abbiamo attivato subito Del Giro d'Abruzzo Del Giro d'Abruzzo Un mese prima Abbiamo attivato subito Una macchina organizzativa importante E abbiamo realizzato Ed organizzato davvero Tutto al meglio Ed è stato un successo E si parla già Della prossima edizione Ma certo Sì Dopo il successo di quest'anno Ci siamo già messi in moto Per la prossima edizione Nel frattempo Naturalmente prepariamo Il Matteotti Subito dopo la partenza Il Giro d'Italia Poi ci sarà il nostro Bici in città Il giorno della festa Della mamma Quindi una giornata All'insegna proprio Della famiglia Una bellissima padelata Cittadina Da trascorrere Proprio all'interno Della città di Pescara E poi naturalmente Ci prepariamo Per gli altri eventi Come ho appena detto Ci sarà Il Matteotti La Maratona D'Annunziana Poi per la prima volta A Pescara Avremo un evento Dedicato alla vela Dal 4 all'8 settembre I campionati italiani Di vela E poi Non ci possiamo dimenticare Dei mondiali Di pattinaggio Assolutamente Esatto Che Pescara sarà A sede World State Games Esatto Il 20 e 21 settembre E poi naturalmente Werewolf Run Che ci sarà Ad ottobre E proprio lì Cerchiamo Di promuovere Un'attività sportiva Anche durante il mese Di ottobre Sulla spiaggia Molto bello L'abbiamo seguita Lo scorso anno Una spendida edizione Partecipanti Naturalmente Le attività commerciali Sono contentissime Perché quest'anno Ci sarà una a due giorni Quindi Che dire L'amministrazione comunale C'è Il mio assessorato C'è Io invito tutte le associazioni Sportive A propormi Qualsiasi tipo D'iniziativa Valida per il nostro Territorio Avrete sempre Il massimo supporto Ringrazio di cuore Il nostro Presidente Alberto Carulli La vera anima Della UISP Grazie Alberto Per tutto quello Che fai Nel mondo dello sport Grazie a te Per il supporto Che ci dai È bella questa collaborazione Complimenti Quindi Alberto Ci rivediamo il 12 maggio Poi la UISP Cos'altro ha in programma Vabbè Noi facciamo Oltre a fare gli eventi Facciamo campionate di calcio Nuoto Tanto podismo In giro per l'Abruzzo Quindi siamo Sempre operativi Siamo operativi Tutti i giorni Una cosa Volevo ricordare Che Durante la pedalata Il traffico Viene chiuso Al momento Quindi Si camminerà Su strade Libere dal traffico Ok E ci saranno tanti premi Ricordiamolo Saremo scordati Dai vigili Tutto nella massima sicurezza Ovviamente Massima sicurezza Assolutamente Le strade saranno dedicate A bicicletta Volevo dire un'altra cosa Come ricordava Patrizia Che saranno messe in paio Delle biciclette Ah però Quindi anche dei bei premi Di cui un'elettrica Però E poi sarà messo in paio Alle scuole più numerose Le prime tre scuole Gli daremo Dei buoni libri Da 300 200 100 euro di valore Insomma Dei bei premi quindi Niente male Che abbiamo fatto Per coinvolgere Il più possibile Anche le scuole E niente Ci stiamo provando A crescere Per una sortire Complimenti Per un ambiente migliore Certo Assolutamente Scusami Patrizia Volevi ricordare Anche lo sport Non va in vacanza Sì Come ogni anno Ci sono talmente cose Che mi spuggono tutte Quindi Ricordiamo a tutta la città di Pescara Che anche quest'anno Ci sarà lo sport Non va in vacanza Appena chiuse le scuole Il 12 giugno Inizieremo questa attività Prededicata alle scuole Sì No Daremo la possibilità A più di mille ragazzi Dai 6 ai 14 anni Di usufruire Di una splendida iniziativa Due mesi di svago Di sport all'aria aperta Presso i nostri impianti Che vorrei ricordare Lo stadio Adriatico Campo Zanni I Gesuiti E poi naturalmente La piscina provinciale Per svolgere delle attività Natatorie Dalle 8 del mattino Fino alle 14 Tutto promosso dal comune Promosso dal comune Naturalmente dal CONI Ah benissimo Sì La ventitresima edizione A differenza degli altri anni Abbiamo alzato l'età Invece Quindi 6 ai 14 anni Esatto Invece di 13 Siamo arrivati a 14 anni Saranno più di mille ragazzi Anche per le famiglie Un'ottima opportunità Esatto Noi vogliamo assolutamente Sostenere le famiglie Dargli un aiuto concreto Ma soprattutto Vogliamo educare I nostri ragazzi A svolgere attività All'aria aperta Attività sportive Ricordiamo sempre Che lo sport è vita E quindi educare I nostri ragazzi È il minimo Che noi possiamo fare Hai fatto bene a ricordarlo Del resto noi ci occupiamo di sport E cerchiamo anche Nel nostro piccolo appunto Dando spazio A queste bellissime iniziative Di veicolare questo messaggio E allora Io vi ringrazio Grazie a Patrizia Martelli Assessora allo sport Il comune di Pescara Ci rivediamo presto Prestissimo Grazie Valentina È importante fare il punto Con te Che è il termometro Di tutte le iniziative Perché sono talmente tante Come ripeto Però Insomma Bisogna Far dare queste notizie Così le persone partecipano Ed è molto bello Alberto Caruli Grazie Ci rivediamo anche con te Magari presenteremo Qualc'altra iniziativa Molto volentieri Grazie per l'ospedalità Gentilissimi voi Torniamo sul calcio Mandiamo Un minuto Di Roberto Cappellacci L'allenatore dell'Aquila E poi rientriamo in studio Grazie ancora a voi Grazie Siamo in un momento Dove non meriteremmo Di vincere nessuna partita Come è stata la domenica scorsa Come è stato oggi Sicuramente Certo che viviamo sempre Su qualche individualità Che ci sta dando a mano Da tempo E' certo che bisogna anche poi Trovare qualche appiglio positivo Quando si dice Che questa squadra È comunque tosta No? Cioè nel senso Non sai che Non sai quando gioca Quando non gioca Cioè ci sono dei momenti Che sembra Una squadra forte Ci sono dei momenti Che ti fa rabbrividire Però poi alla fine Riesce comunque In qualche maniera A venirne fuori Quindi sarà una qualità Che come ho detto A me sfugge un pochino Però devo dire Che poi dopo io vedo I giocatori Come finiscono la partita Come si allenano in settimana Quindi Da quel punto di vista Meriterebbero questa fortuna Dal punto di vista mio No Perché mi vergogno per gli altri E' so preoccupato Quindi Infatti oggi se vedete Alla fine Avevamo 16-17 difensori In mezzo al campo Che non sapevano neanche Di dove mettersi Quindi Certo che ci sono delle qualità Perché voi in fondo Leggermente scherzo Ma non tanto Quindi Ci sono delle cose Che sono sopra la media Che Alcune qualità di queste cose Sono sopra la media Però quella di giocare Di avere continuità Di avere ritmo Di avere idee Non ne vogliono sapere E quindi Sono fatti loro Quindi posso fare Se vincono così Io gli posso dire Cerchiamo di migliorare Però Però se poi vinci Vuol dire che già Siamo al massimo Quindi non ci sarà Niente altro da migliorare Sono preoccupato Però di rimettere a posto Questa squadra Perché ultimamente Abbiamo avuto Tanti acciacchi In settimana Succede sempre Che più di un giocatore Si ferma E lo recuperiamo Solo a fine settimana E questo in vista Poi Il basket Siamo addirittura Ad arrivo Nei campionati di B E nelle fasi Post season Di B interregionale Andiamo sempre Con Vincenzo Ciccone A vedere Come è la situazione Come stanno andando Le avruzzesi Giornata di chiusura Di regular season Nei tornei nazionali Di A2 femminile E B maschile Nonché di conclusione Nella seconda fase Per la B interregionale Nella 2 in rosa Le Panthers Roseto Devono cedere in casa Al Vicenza E ora La terza del girone B Andranno ad affrontare Nel tabellone 2 Dei playoff Il quarto Serie al meglio Dei due successi Sotto tre gare Contro il Selarjus Con gara 1 Sabato sera Alle ore 20 e 30 Al Palamaggetti Nella B maschile Per il girone B L'ultimo turno di campionato Regala un successo A Roseto 80-77 a Vicenza Ed una sconfitta De 10 a Taranto Per il Chieti Con i primi al vertice Della classifica E di secondi 12esimi E salvi Roseto ora Sarà nel tabellone Due dei playoff Affrontando i quarti Sant'Antimo Ottavo nel girone A Con serie al meglio Dei tre successi Su cinque partite A partire Dal prossimo 5 maggio Nella pinta regionale Infine Per i play in silver Chiudono la stagione Con un successo interno Sia l'amatori Pescara 70-65 Su Ferentino Che il teramo a spicchi 77-66 Sulla Carver Roma Nei play out Il nuovo basket aquilano Espugna Civitanova Marche Per 93-80 E chiude con primo posto La pool Il successo Del Roseto 2020 73-60 Sul Grotta Ferrata Vale la salvezza Per i rosetani Permanenza in categoria A trovare invece Attraverso gli spareggi Per il Pescara 2.0 Nonostante il successo Sulla New Fortitude Con incrocio Con incrocio Nello specifico Contro la tess'ultima Nella Conference Sud La Castanea Messina E siamo arrivati al termine Anche di questa puntata Io ringrazio come sempre voi Che ci seguite affettosamente I tanti ospiti Che ogni martedì Si alternano qui Nei nostri studi di Pescara E si collegano con noi Sempre con tanta gentilezza Ringrazio la parte tecnica Antonio Desiderio E Alessio Tallari E vi ricordo Che potete seguirci Anche attraverso I nostri social E il nostro sito www.teleregionetv.it Ci vediamo martedì prossimo Per una nuova puntata E domani In replica Alle 11 E alle 16 Con Extra Time Un bacio a tutti E a presto E a presto